ciao a tutti sono tommy dell'olio vi do come sempre benvenuto nel mio studio nella mia regia di mix e vi do il benvenuto per il mixing trick di questo mese oggi vorrei trattare qualcosa di un po più semplice un po più leggero ma comunque perché no sicuramente utile quantomeno per il vostro portafoglio che onestamente di questi tempi è da considerare allora di cosa vorrei parlarvi anche qui ho pensato a questo tutorial in relazione ovviamente a raccogliendo le domande più frequenti che ricevo quando faccio didattica quando faccio i miei corsi di mix quando mi relaziono con le altre persone riassunto in sintesi mi viene il cliente in studio facciamo un corso insieme facciamo un percorso didattico insieme il cliente chiaramente vede quello che utilizzo e è portato ovviamente ad acquistare più o meno peraltro pochi i plugin che utilizzo mi chiede consiglio su cosa acquistare in relazione anche a quello che già possiede e ovviamente mi chiede magari in relazione plugin che non possiede se c'è qualcosa che può evitare che può sostituire per risparmiare giustissimo io al suo posto farei la stessa cosa e qui ovviamente ci sono dei plugin che hanno secondo me un'importanza incredibile soprattutto due o tre che a mio giudizio per quello che è la mia quotidianità di lavoro per quella che è la mia quotidianità di lavoro sono insostituibili ma ce ne sono tanti altri che sono assolutamente intercambiabili per esempio un delay un delay è un delay onestamente attenzione ci sono dei plugin molto più belli e meglio suonanti di altri questo è vero però io oggi vorrei con voi capire anche un pochettino il perché alcuni delay suonano così bene rispetto ad altri perché ho scelto proprio il delay beh in realtà avrei potuto fare questo video su tantissimi altri plugin ho scelto di farlo sul delay un po perché il delay serve a tutti qualunque fonico qualunque insegnante di mix se anche deciderete di non fare didattica con me di non iscrivervi a uno dei miei corsi di mix ma andrete a farlo con qualcun altro io tiro a indovinare con qualunque routine di mix dell'universo almeno un delay lo utilizzerete un po come il riverbero almeno un riverbero almeno un delay ce l'hanno tutti il delay oltretutto è uno di quei plugin che normalmente è presente in tutte le dao quindi qualunque sia la dao che voi avete e decidete di utilizzare un delay interno già l'avete ecco qui casca l'asino perché spessissimo questo delay suona male insomma no non come vorreste in relazione a magari di lei che sentite nei dischi o che vedete in altri tutorial che magari avete visto anche nei miei tutorial ecco io oggi con voi vorrei capire cosa manca a questi benedetti di lei integrati nelle dao per suonare bene tanto quanto un plugin che magari vi costa cento o più euro solo per fare un delay quindi solo per fare una cosa che di fatto voi già avete allora io oggi vi farò vedere ovviamente una chain di due tre plugin ma chiaramente sono cose molto semplici utilizzerò dei saturatori utilizzerò degli equalizzatori utilizzerò dei riverberi ma l'idea è quella di prendete il delay che già avete abbinate gli magari un eq uno qualunque faremo delle cose semplici quello che avete va bene anche quello integrato della dao applicate un pizzico di riverbero vi darò delle indicazioni sulla regolazione quello che avete utilizzato non dovete utilizzare i miei plugin sennò chiaramente decade il senso del video e stessa cosa con la saturazione io utilizzo il mio solito saturatore molto bello e anche abbastanza costoso come tutti i plugin della fabfilter ma in questo caso assolutamente è rilevante che voi utilizzate quello avete un qualunque tape emuletron qualunque saturatore valvola transistor qualun console qualunque cosa utilizzate quello che già avete cercheremo di riciclare un pochettino plug che già avete per creare una chain che ci porti ad avere un delay convincente quindi che rispecchi quelle due tre quattro quei due tre quattro fondamentali quelle richieste fondamentali che un delay da mix per poter funzionare bene deve avere quindi direi spostiamoci sul pro tools e vi faccio vedere quella che è la mia ricetta per rivitalizzare un pochettino i vostri delay eccoci qua davanti al pro tools ciao a tutti di nuovo e allora adesso cercherò di farvi vedere in qualche piccola mossa come ottimizzare il nostro delay stock della dao qualunque sia non c'è problema allora cominciamo a spegnere un po di plug e ad ascoltare il delay della dao in versione ok perfetto ce l'abbiamo fatta così parto io qui avevo già regolato delle cosettine no questo lo voglio a zero ok partiamo da come si apre quantomeno il mio il mio ma penso valga anche per il delay della vostra dao stavo dicendo come si apre di default il mio delay in pro tools allora questo è lui l'ho abbinato una traccia vocale che abbiamo usato giusto appunto anche per chi mi segue lo sa nello scorso episodio provate a sentire ok è un delay il risultato è un po miserino infatti poi da qui anche il discorso che dicevamo nell'introduzione caspita sento un risultato così mi viene subito voglia di dire caspita mi compro un delay bello e spesso di lei belli costano comunque parecchi soldini allora cosa possiamo fare innanzitutto cerchiamo di capire perché poi in fin dei conti anche questo di lei anche i vostri dei sono tutti belli diciamo che questo forse un po troppo bello e questo lo fa sembrare brutto sembra un controsenso ma ciò che rende interessante un delay normalmente è proprio il fatto di essere lo fa i più altri piccoli tricchettini quindi cominciamo a partire da una cosa molto importante allora ascoltate bene questo di lei è un plugin stereo scusate che ok questo è un delay stereo il plugin quantomeno è stereo è posizionato vedete qua sotto questo traccia ddl verde questo è l'aux del delay su un aux stereo però suona mono perché suona mono beh è ovvio perché noi abbiamo settato questo delay al quarto vabbè ok e abbiamo lo stesso identico sentaggio 521,7 millisecondi sia a sinistra che a destra allora se io comincio a fare una cosa carina cioè porto a 531 insomma shift o ritardo di 10 millisecondi uno dei miei due canali e voilà e il nostro di lei è diventato magicamente stereo per davvero quindi ho fatto una solta di double tracking il di lei si muove al quarto ma uno dei due canali è ritardato di 10 millisecondi e questo porta esattamente a questo risultato questa cosa secondo me è molto importante ed è la prima delle cose che vuole dire in questo tutorial quindi come fare a fa suonare un delay figo beh prima cosa facciamolo suonare in stereo quindi quale che sia il vostro plugin ritardate uno dei due che ha settato al quarto l'ottavo come più vi piace andate però a ritardare il plugin uno dei due canali del plugin di circa 10 millisecondi poi proseguiamo allora quello che sento che non mi piace è che non fa colla non fa ambiente è un po troppo esplicito anzi permettetemi una cosa faccio una piccola modifica di routing metto in prefader la mandata abbasso a zero il volume della traccia così quello che adesso state per sentire è solo il ritorno del delay così lavoriamo più comodamente allora prima di tutto abbiamo il feedback a zero il feedback a zero non va bene se noi vogliamo dare un po' di ambience dobbiamo portare il feedback almeno a 20 25 per cento una roba del genere poi dipende dal plugin si sommano una dopo l'altra e mi tengono la pulsazione sul quarto questa cosa è indispensabile quindi date un 20 25 per cento di feedback secondo me poi a gusto decidete voi quanto darne dopo di che cominciamo a dare un po' di carattere al nostro delay perché se la prima mossa importante è quella di renderlo stereoshiftando uno dei due canali la seconda mossa importante è quello di renderlo low fi io lo faccio in due passaggi primo passaggio un tape non vado a cercare quella roba qui ma gli vado a dare un po' di calore nel senso di push sulle medi ok lo vado a ovattare leggermente sentite cone senza saturazione questa è una saturazione morbida niente multibanda un tape emulator qualunque un saturatore qualunque adesso sto usando il saturn ma è assolutamente è rilevante che voi utilizzate il saturn sennò perderebbe di significato il 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 trick stesso che è il tutorial stesso perché se vi andate a comprare un saturatore 650 euro per risparmiare i soldi a dire non ha senso quindi un qualunque sono sicuro che ne avrete un qualunque plugin di saturazione di qualunque tipo valvola transistor tape quello che volete voi da sporcate sporcate un pochettino questo di lei sentite con essenza arrivano le armoniche comincia a prendere un po più di densità e si scurisce ma leggermente io però ho bisogno di renderlo molto più brutto di così quindi ti prendete un eq qualunque uno di quelli che già avete e mi fate un bella e cat locat e in questo caso chi mi conosce sa che io utilizzo sempre pendenze di filtri molto importanti per pendenze di filtri intendo quella roba qui che è il lavoro di solito 72 db per ottava in questo caso no 18 12 una roba del genere va benissimo voglio rovinare un po se si crea qualche problemino di fase a causa di questi locat va meglio io lo voglio un po scassare ok questo di lei quindi vado a utilizzare delle pendenze del mio filtro 12 18 è irrilevante una roba del genere ok una roba del genere faccio in modo che le pendenze del mio filtro siano simili a quelle che potrebbero essere le pendenze di un filtro e cat locati di una consola analogica e vado a fare questa roba qui l'ho scurito molto e secondo me va bene così perché una delle cose importanti per far sì che un delay funzioni io mi ricordo ancora tanti anni fa quando avevo i rack avevo un bellissimo pcm 70 la lexicon uno dei delay secondo me più belli della della storia e ma perché quei delay in realtà erano belli perché nascevano già brutti voi per i convertitori a bordo di questa unità di effetto che erano comunque a livello diciamo high five se così si può dire molto molto scarsi poi ovviamente io andavo a cattare lo cattare come facevo adesso lo stesso anche col pcm 70 però il concetto era quello che avevano una sorta di calore e proprio dovuto al fatto che il convertitore stesso riduceva la banda passante sporcava un pochettino suono non era tutto tranne che ai fai e quindi questo poi ci dava un vibe particolare e noi di fatto stiamo l'idea è che questo voglio dirvi noi non stiamo partendo da un delay brutto noi stiamo parlando di lei troppo bello i plugin che magari paghiamo 100 euro o più non sono più belli di questo sono già stati abbruttiti e per quello che è il nostro canone estetico per quello che noi ci aspettiamo a essere penso a un ecoplex ok penso a un pcm 42 della lexicon è molto più brutto di questo a livello tecnico elettrico ma per noi è molto più bello godibile a più vibe perché c'è semplicemente il timbro che noi ci aspettiamo da un'unità di delay quindi noi qui stiamo cercando di partendo dal troppo bello super bello super pulito e quindi in questo caso assettico stiamo cercando di con un po di saturazione con una e cat lo cat di andare a sporcare e rendere più interessante il nostro di lei anche perché andando a vattarlo sporcare scurrirlo poi si creerà un bel contrasto con la voce che invece è giusta quindi normale timbricamente come Q si creerà un bel contrasto per cui la voce sta davanti e il delay per tanto che ne daremo starà sempre dietro perché la voce chiara il delay è scuro la voce più veloce sui transienti perché è pulita il delay è più morbidino perché è saturato ok questo è un pochettino il senso da qui vado ad aggiungere l'ultima cosa io adesso ho messo un plugin di reverb in insert con un mix del 20 per cento quindi utilizzando lo wet and dry ragazzi non fate sta roba qui come la sto facendo io adesso sono in un progetto vuoto e ho bisogno di dirvi e quindi farvi sentire che serve anche un po di reverb al delay ma se fossi in uno dei miei template di mix anzi nel mio perché ne ho uno solo nel mio template di mix andrei dal send ok direttamente ad assegnare ad una traccia di riverbero cioè tramite un send andrei a riverberare il mio delay con uno dei riverberi questo peraltro è uno dei riverberi che ho nella sessione lo stesso quindi andrei a riverberare con un riverbero già presente nella mia sessione di mix quindi ripeto non è necessario che voi vi cariate una channel strip con neanche un plugin di riverbero in insert nel canale del delay date tramite un send un po di riverbero al delay utilizzando un riverbero che avete già aperto nella sessione di mix il mio consiglio è un riverbero lungo io ne ho di corti non ho di lunghi scelgo la hall che è quello più lungo che ho vedete che parliamo di più di tre secondi del riverbero che hai questo importante perché qui voglio ottenere quella roba qua ancora più come dire tappeto ancora più texture e ovviamente come sembrano i riverberi soprattutto quali lunghi me lo porta ancora più indietro noi eravamo partiti da questo sentite come era bello presente brillante sentite come l'abbiamo ha reso brutto e lontano però a questo punto vado a spegnere il pre fader infatti potevo anche lasciarlo perché non è una sessione di mix completa non cambia nulla ma a questo punto proviamo a sentirlo in contesto con la voce ed ecco che abbiamo un delay che secondo me faccio sentire il prima cioè questo proprio non funziona non somiglia minimamente al delay di un disco e oltretutto il fatto di essere così esplicito quindi con una risoluzione così alta rompe anche le scatole a livello ritmico anche proprio a livello ritmico la parte vocale non suona come dovrebbe questo delay ci porta da un'altra parte con il processo che abbiamo fatto invece sono così ed ecco che in questo modo noi andiamo a creare partendo da un delay qualunque quello che avete questo è un po senso del tutorial andiamo a creare il vibe tipico di un delay da mix quindi un po' spolcato aperto in stereo chiuso sugli estremi di banda quindi molto radiofonico lo fai un pizzico riverberato e normalmente poi ci possono fare mille varianti sui dettagli ma la zuppa più o meno è questa normalmente i mix i fonici tendono a fare più o meno queste cose trattasi di vedere se le volete fare voi una per una come ho fatto io adesso oppure se volete prendere un plugin già fatto il senso di questo tutorial è un po come se fosse la ricetta con gli avanzi del giorno la ricetta del giorno dopo per riciclare gli avanzi del giorno prima no nel senso a parte gli scherzi è un buon modo per valorizzare quello che già avete io come vi ho detto nell'introduzione e vi ripeto adesso in conclusione ma spessissimo quando i miei allievi qui in studio che vengono a fare i corsi di mix e i percorsi personalizzati come ovviamente si imbastisce il template si vede un po quello quello che utilizzo si paragona con quello che già il cliente si fa un po la lista della spesa no quello che mi manca quello che devo comprare un po i soliti discorsi e ovviamente il pensiero di tutti dov'è che posso risparmiare posso fare a meno di comprare qualcosa questo come potrebbe essere una delle cose su cui si può scusate che mi sta comparendo il messaggio automatico questa può essere una delle cose su cui tranquillamente si può facilmente risparmiare poi alla fine io dico ma chi se ne frega se anche ci spendo magari un quarto d'ora o venti minuti per settarmi due o tre plug in in più tanto dopo questo canale di lei me lo salvo nel mio template che abbia dentro un solo plug in o che ne abbia quattro in chain per creare il suono che mi serve non mi cambia niente poi ormai i tempi in cui servivano dei computer potenti e costosi per mixare non mai sono passati io utilizzo apple e onestamente da quando sono arrivati i processori apple silicon qualunque qualunque computer prendete a partire dall m1 primissimo uscito più piccolo che c'è meno potente che c'è gira benissimo quasi qualunque cosa quindi anche qui il fatto di avere un plug in o due in più non cambia nulla a livello di gestione della cpu quindi questo secondo me è un ottimo sistema per valorizzare riciclare un pochettino di quello che avete già farvi un bel delay non spendere nulla e essere pronti a mixare provateci secondo me funziona benissimo poi mi saprete dire io mi fermo qui vi lascio sperimentare ovviamente vi auguro buon mix e ci vediamo al prossimo episodio ciao a tutti